Angelo Forgiore, allora lei invece ci ricorda che mentre noi parliamo di certi lampioni di ghisa di Palazzo Reale che danno su Piazza Trista e Trento, sono addirittura scomparsi nel nulla quelli che stavano sotto il Palazzo Reale e lei ce le manda, diciamo, un effigie a esecue compiuta. Perdonatemi, vi faccio vedere i lampioni, ecco qua, questi erano i lampioni, questi diventarono i lampioni, non muoveremo, vedete? Ne manca uno qui, ecco, hanno staccato, lo vedete? Lo vedete meglio? Lo vedete meglio? Guardate il particolare, scomparso, rubato, sottratto, conservato? Palazzo Reale, a fianco al posto del Berlusconi, stamattina ci ha dato quelle belle notizie. Forse i vostri monumenti avrebbero bisogno di più rispetto.